Al primo posto c'è Angelina Mango, la noia! È la cumbia della noia! Standing Ovation, ieri, davvero il pubblico ti ama, la canzone è arrivata a tutti. Beh, sono abbastanza sconvolta. Ieri soprattutto ero quasi imbarazzata sul palco, devo dire la verità. Mi sembrava un sogno. Quel palco crea una certa emozione, ma anche delle ansie inaspettate. Sì, sicuramente prima di salire sul palco non sono così tanto sicura. Dietro le quinte, prima di scendere canto, così mi rilasso, provo a rilassarmi, ma non ci riesco. Questa sera è un momento particolare del festival. Come mai hai scelto la rondine come brano di tuo padre? Io sono un po' agitata per questa cosa, devo dire la verità. Però sono anche felice e onorata di portare una canzone di mio padre sul palco e spero di riuscire a farlo nella maniera più rispettosa possibile. Spero di fare proprio quello che si definisce un omaggio, vero e proprio. Ordine, dov'è te, ordine? È una canzone che abbiamo visto in un video che è circolato sui social, che tu già cantavi un po' di anni fa, diciamo così. Sì, perché era appena uscita e io ero piccolissima. Mia madre mi ha mandato questo video. Chi penserai mentre canterei questa canzone questa sera? Penserò alla mia famiglia, alla mia famiglia che mi guarda da casa e spero di renderli orgogliosi. È la coppia della novità! Ciao Alberto, grazie dell'invito e vi mando un abbraccio. Buona continuazione! Ciao!